Raffaella Maria Ramazzotti figlia di Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti compie 13 anni un anno in più verso la fase dell'adolescenza che per i genitori, ma anche per gli stessi ragazzini, spesso è complessa da gestire tra i cambiamenti del corpo, della personalità e le prime prese. Un anno in più verso la fase dell'adolescenza che per i genitori, ma anche per gli stessi ragazzini, spesso è complessa da gestire tra i cambiamenti del corpo, della personalità e le prime prese. Un anno in più verso la fase dell'adolescenza che per i genitori, sarò tra le luci di mille città tra la solita pubblicità quella scusa per farti un po' ridere e io sarò quell'istante che ti porterà una piccola felicità quella stupida voglia di vivere sempre. Sarò tra le luci di mille città tra la solita pubblicità quella scusa per farti un po'. Raffa 13 Il tuo papi, versi bellissimi che raccontano il suo amore per la figlia e soprattutto la certezza che lui sarà sempre al suo fianco. Anche Pellegrinelli ha voluto omaggiare la figlia e nelle sue storie Instagram ha condiviso uno scatto in cui ci sono loro due quando Raffaela era piccola piccola. 13 anni di amore auguri Raffa del nostro cuore. Immancabili gli auguri di Aurora Ramazzotti che ha voluto rendere pubblica una foto dolcissima, la 13enne con in braccio il figlio Cesare Augu. Immancabili gli auguri di Aurora Ramazzotti che ha voluto rendere pubblica una foto dolcissima, la 13enne con in braccio il figlio Cesare Augu.